Io non so come dirvelo, mi piace il cazzo di Fiorello, è pazzesco, allora, allora, la notte del 19 luglio scopo Fiorello, mezz'ora, un'ora, anche un'ora e mezza, trovo un bananone a Fiorello, bene, benissimo, solo che quella roba lì è una montagna, scopare in questo modo è un'impresa, io mi muovo random, a caso, ora che cosa voglio dirvi, abbiate tanta pazienza, va bene, scopate un cazzo breve, per cui purtroppo per oggi gli attacchi d'arte sono finiti, io vi aspetto nella prossima puntata con tante altre sorprese, qui con Giovanni, qui...